La formazione in edilizia è necessaria per favorire la qualità del costruire. A sostenerlo è il sindacato di categoria Phil Calcisl. Oggi serve una formazione che aiuti anche a ridare qualità al mondo dell'edilizia. Serve una formazione che possa permettere ai lavoratori di ritrovare una nuova qualità nel costruire, soprattutto rispetto all'utilizzo di materiali nuovi, all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alle innovazioni per il risparmio energetico. Ma serve anche una formazione che aiuti a riprendere il lavoro, perciò a trovare una nuova occupazione. Per questo noi chiediamo al nostro sistema di enti di formazione di fare anche l'incontro domanda offerte di lavoro, di gestire la borsa lavoro per evitare di perdere professionalità già presenti nel settore, ma soprattutto per dare continuità all'occupazione nel settore. Chi ha scelto l'edilizia conosce i cantieri e proprio perché conosce i cantieri per noi sono le persone su cui investire, anche per la sicurezza nel cantiere.